Questo è il problema verso il quale bisogna risolvere proprio la radice. Perché svolgiamo funzioni fondamentali. Noi ci occupiamo di rifiuti, di emissioni in atmosfera, di acque. In realtà, per esempio, proprio qui che siamo a questo evento di sala, volevamo andare a un'informativa di questo tipo. Sono nostri colleghi che si occupano dei rifiuti. E quindi una cosa importante dell'area Expo è quella dello smantellamento. Quindi per fare in modo che le aziende possano partecipare agli appalti, addirittura, c'è bisogno di autorizzazioni rilasciate alla città metropolitana. Ma se mancheremo noi... Non si riesce a fare tutto quel passaggio. No, no, ma siamo d'accordo. Tuttavia, visto la tranquillità che è stata data nell'immediato, la priorità adesso è lavorare per dare una stabilità. Sarebbe una cosa più importante. Grazie. Bocca al lupo. Arrivederci. Arrivederci.